Aldo Rodolfo Dinunzio, 71enne residente a Lanciano, resterà in carcere in attesa del processo per l'accusa di omicidio della moglie, Anna Maria De Liseo, 60 anni, trovata senza vita nella rimessa garage della loro abitazione a Villa Iconicella il 15 luglio 2022. La decisione è stata presa dal Tribunale del Riesame dell'Aquila che ha confermato la detenzione dell'uomo perché persistono gravi indizi di colpevolezza. Lui aveva sempre sostenuto che la moglie si era suicidata, ma il caso ha subito un'importante svolta nelle indagini un mese fa quando il procuratore capo di Lanciano, Mirvana Di Serio, e il sostituto Fabiana Rapino, supportati dai carabinieri, hanno ottenuto un'importante consulenza informatica da Christian Franciosi, depositata l'8 gennaio. Grazie a questo accertamento sono stati individuati frammenti video registrati dalla telecamera della villa in cui si sente la voce della donna urlare «No, lasciami, no, lasciami» nel giro di sei secondi. Il marito, che aveva inizialmente chiamato i soccorsi dopo aver trovato la moglie senza vita, ha sempre sostenuto la sua innocenza durante l'interrogatorio in videoconferenza dal supercarcere di Lanciano durante il processo di riesame. Il suo avvocato difensore, Silvia De Santis, ha cercato di ottenere misure meno afflittive, come l'obbligo di firma, la dimora o, in ultima istanza, gli arresti domiciliari, ma la richiesta è stata respinta. Il caso rimane aperto in attesa di ulteriori iniziative della difesa. Nel frattempo, Dinunzio resterà dietro le sbarre, accusato di presunto uxoricidio. La comunità locale segue con attenzione lo svolgimento delle indagini, mentre la famiglia della vittima continua a cercare giustizia per la perdita della loro cara Anna Maria De Liseu.